Grazie a un mio amore Emanuele D'Amasio, tra un po' consegno di Carlo Consol, che tiri? Ma stai forte, non stai qua? Stai a dire, non lo volevo mettere laggiù. Stai a dire, un messaggio a Michele Cerchi, ciao Michele, da Roma. E tra un po' sono il maestro Stefano di Carlo, dalle persone che non sono venute un grande vaffanculo. E adesso è noia. Buon arretto a sensazione che stasera più bella. Buon arretto a sensazione che non sono venuta un grande vaffanculo. Grazie a tutti.